Buonasera o buongiorno. Adesso parliamo di un'altra questione molto importante di Castellamonte, le famiglie e i giovani. Penso che dopo questo primo periodo di lockdown le famiglie vadano supportate e vadano anche ad aiutate. Questo dovrà essere un impegno primario dell'amministrazione castellamontese. Penso che il nostro candidato a sindaco Dionigi Bartoli abbia una sensibilità nei confronti delle famiglie, nei confronti dei più deboli, degli anziani. Indubbiamente che un altro problema che ci sta molto a cuore sono i giovani. Penso che i giovani di Castellamonte abbiano bisogno di momenti di riflessione, momenti di aggregazione che poi vengano fatti attraverso dei tornei sportivi, attraverso dei momenti culturali, attraverso, diciamo, a delle sane iniziative, debbono essere comunque supportati. Devono essere supportati ed aiutati perché comunque la gioventù è il nostro futuro e quindi bisogna investire sul futuro. Investire nella maniera corretta e quindi non si possono strumentalizzare delle situazioni in merito magari a delle manifestazioni per poi dopo ridurre il tutto in feste di casa oppure costinate varie. Io penso che i giovani vadano aiutati nello spiegare che cosa sono le elezioni amministrative. Bisogna spiegare ai giovani che debbono leggere i programmi per quanto riguarda le prossime elezioni di Castellamonte perché all'interno dei programmi si possono trovare delle risposte, si possono trovare delle risposte che devono indicare che cosa vuole fare l'amministrazione per i giovani e quindi aiutarli a crescere in ambienti sani, che siano ambienti di cultura, ambienti sportivi, ma ambienti che facciano in modo che utilizzino meno lo smartphone, ma che utilizzino di più le parole, gli affetti sociali e i sentimenti che poi dopo devono trasmettere a loro volta alle generazioni future.